Benvenuti a Sousa d'Ulps, da questo modo possiamo iniziare a andare dentro l'ultimo villaggio. Durante l'interno c'è anche la possibilità di organizzare direttamente da Sousa d'Ulps, magari 200 metri da l'anno, l'heli-ski che ti porta tutta questa valle, tutta la cima di questa montagna. Potete vedere qui le sloche che arriva direttamente dentro del villaggio, e ci sono due luci che ti portano al top della montagna direttamente. In 5 minuti potete arrivare a 2,500 metri. A mell'altra parte potete vedere il Caffè della Seggiovia. I ragazzi di Londra dovrebbero perdere qui, in mio opinion, perché possono sapere alcuni dei vini più importanti dell'italiano. Il proprietario è Lele, ti presento. Questa è una macchina di vino che è perfetta per noi, perché è facile servire vino alla right temperatura, perché è anche un friggio. Con questa macchina possiamo mantenere il vino bene per 3 settimane. Ok, ciao a tutti. Arrivederci in Sousa d'Ulps. Grazie. Grazie.